Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Dalle ore 3 di stanotte i vigili del fuoco di Tolmezzo, Rigolato, Santo Stefano di Cadore sono intervenuti per l'incendio di una casetta di quattro piani fuori terra imbogata a Mulbac a Sappade in provincia di Belluno. All'arrivo sul posto dei pompieri l'incendio aveva già coinvolto l'intera struttura in legno e le squadre, nell'impossibilità di entrare all'interno dello stabile, hanno iniziato le operazioni di estinzione lavorando dall'esterno. Non risultano persone coinvolte in quanto l'edificio incendiato è una casa vacanze che in questo periodo era fortunatamente vuota. I vigili del fuoco per aver ragione delle fiamme hanno operato tutta la notte e sono in corso ancora adesso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. E continuiamo ad occuparci di incendio, uno pauroso si è verificato questa notte in un'azienda della provincia di Vicenza. Vi raccontiamo cos'è accaduto. La scorsa notte è scoppiato un incendio di vaste dimensioni in un'azienda ad Altavilla Vicentina. Dalle 21.45 di giovedì 2 maggio i vigili del fuoco hanno iniziato ad operare per un vasto incendio scoppiato all'interno dell'azienda di detergenti e imballaggi plastici di via 4 novembre ad Altavilla Vicentina. Il rogo si è sviluppato all'interno di uno dei capannoni mentre gli operai erano impegnati nel turno di notte. Nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme in pochi minuti si sono subito estese a gran parte del capannone. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza e in successione in rinforzo da Arzignano, Lonigo, Tiene, con i volontari Verone e Rovigo, coadiuvati dal funzionario di turno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre, dopo circa tre ore, sono riuscite a circoscrivere il rogo, riuscendo a contenere le fiamme a una porzione di capannone di oltre 4.000 metri quadri ed evitare un rogo generalizzato. La parte della struttura di magazzino di prodotto non finito interessata dal rogo è collassata, tra cui diversi silos vuoti. Salvaguardato dalle fiamme dalle squadre dei vigili del fuoco, un silos di acido di poclorito di sodio. Durante le operazioni di spegnimento, numerosi gli scoppi e le esplosioni del materiale coinvolto dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto, il personale dell'ARPAV, i carabinieri e la polizia locale. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la bonifica da parte delle squadre sono proseguite per tutta la giornata di oggi. I carabinieri hanno individuato i presunti responsabili di una gara folle di velocità tra autovetture di grossa cilindrata avvenuta sulla viabilità ordinaria in piena notte nella zona di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. A condurre gli investigatori all'identificazione dei responsabili sarebbe stato un video diffuso sui social da varie persone che appunto avevano assistito all'insolita sfida. Sull'evento, la procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo. Continuano le indagini per far luce sul grave atto avvenuto qualche giorno fa a Vigonza nei confronti del geometra capo dell'ufficio tecnico. I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza stanno indagando sull'attentato compiuto da sconosciuti nei confronti del dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Vigonza avvenuto nella notte tra il 30 e il 1 maggio. Sconosciuti sono entrati nel giardino dell'abitazione della famiglia dell'uomo incendiando due automobili, danneggiando anche l'abitazione. Momenti di grande paura che fortunatamente si sono conclusi senza feriti ma si tratta di un atto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Le indagini si stanno concentrando per individuare i responsabili e comprendere le cause di quello che sembra un atto intimidatorio. La vicenda viene seguita anche dal sindaco di Vigonza che ha definito il fatto come un atto intimidatorio molto grave. Sembra che il geometra avesse già ricevuto minacce in passato. Durante i controlli nelle zone calde di Mestre, in particolare il quartiere Piave i carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi due nigeriani di 25 e 28 anni poiché a seguito di una perquisizione domiciliari sono stati trovati in possesso di 17 palline di cocaina e di 12 di eroina materiale per il confezionamento e 800 euro che erano verosimilmente proventi dallo spaccio. L'udienza di convalida ha condannato i due all'obbligo della presentazione e la polizia giudiziaria. Nella stessa indagine due tunisini di 20 e 23 anni, entrambi irregolari, sono stati trovati in possesso di 100 grammi di acis e 5 di cocaina. Erano stati notati bivaccare all'interno di una tenda montata in uno dei giardini pubblici di Mestre. Nell'udienza di convalida sono stati condannati a un anno di reclusione al pagamento di una multa di 1200 euro e nulla osta per l'espulsione. I due sono finiti nel centro permanenza per il rimpatrio di Milano e di Gradisca. Torniamo ad occuparci del contributo di accesso a Venezia. C'è la nona giornata per quanto riguarda questa tassa. Vediamo com'è la situazione. Il 2 maggio, a Venezia, ottava giornata del contributo di accesso, che ha l'obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici. Registrati 15.077 paganti in calo rispetto al dato del giorno precedente. I codici emessi per gli esenti ospite in strutture ricettive sono stati 53.116, esenti perché residenti in Veneto o nella città metropolitana, 3.047. Oggi la nona giornata in cui è previsto il contributo d'accesso. Per tutte le altre giornate in cui è previsto il pagamento del contributo d'accesso saranno attivi dei varchi fisici ai principali punti di accesso della città, distinti da varchi prioritari per residenti e lavoratori. Saranno presenti degli steward che verificheranno il QR code dei visitatori e saranno a disposizione per aiutare chi ne fosse sprovvisto a scaricare il titolo di accesso sul posto e pagare il contributo. Superati i varchi, qualora qualcuno fosse sprovvisto del contributo di accesso sarà multato dai verificatori che effettueranno controlli a campione. Una corriera piena di passeggeri è rimasta incastrata tra le sbarre di un passaggio a livello mentre stava giungendo il treno. Una tragedia sfiorata a Castagnola di Paese, in provincia di Treviso. A segnalare il caso sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Sui social c'è chi racconta di aver visto il mezzo pubblico correre per attraversare il passaggio a livello, quando le sbarre si stavano già abbassando, tanto appunto da rimanere bloccato nel mezzo. Erano circa le una del pomeriggio e il bus stava percorrendo la linea 113, quella che collega Treviso a San Zenone. La fortuna ha voluto che la distanza tra la sbarre e le rotaie fosse sufficiente a permettere alla corriera di restare ferma senza essere travolta dal treno. Il mezzo ha quindi atteso che le sbarre si alzassero per riprendere la propria corsa tra lo sdegno e l'incredulità dei testimoni. L'autista se la rideva, ha commentato uno dei presenti, poteva succedere una tragedia. L'indignazione e la manovra azzardata che ha messo a repentaglio l'incolumità dei passeggeri ha trovato ampio sfogo sui social, ma è stata inoltrata anche una segnalazione all'azienda del trasporto pubblico, al comune e naturalmente una denuncia alla pulizia locale. Blitz della Digos di Padova, casa di attivisti di ultima generazione. A Padova proseguono le indagini nei confronti degli attivisti di ultima generazione. All'alba di oggi la Questura ha predisposto un blitz nell'abitazione di quattro attivisti. Ad intervenire gli uomini della Digos, che a seguito della perquisizione avrebbero sequestrato un computer e uno smartphone. All'interno degli apparati si cercano elementi utili alle indagini. Si tratta di attività investigative collegate al blitz degli attivisti alla mostra di Monet a Padova. La Corte di Appello di Venezia ha escluso sei delle 17 liste depositate nei giorni scorsi per il Collegio Nord-Est, Veneto, Friuli, Emilia e Trentino Alto Adige per le prossime elezioni europee, le cui urne saranno aperte l'8 e il 9 di giugno. Non sono stati ammessi Alternativa Popolare, Forza Nuova, Italia dei Diritti, Unione Cattolica Italiana, Democrazia Sovrana Popolare e il Partito Animalista. Sono dunque 11 le liste ammesse per un totale di 156 candidati, di questi 18 sono i candidati del Friuli Venezia Giulia. Ed ora, come ogni venerdì, diamo la linea a Marisa Sottovia e all'appuntamento con la storia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo del saluto ciao, un saluto breve, semplice e molto utilizzato. E allora conosciamo la sua storia. Ciao è un saluto veneziano di secoli e secoli fa e deriva dalla parola sciavo che significa schiavo. A Venezia la formula di saluto era sciavo vostro, inteso però nel senso di un saluto di riguardo e di rispetto e mai di sottomissione. Nel tempo il termine ovviamente ha cambiato di pronuncia ed è diventato appunto ciao. Ciao, questo saluto poi si è diffuso nel nostro paese, in Europa e nel mondo. È un saluto breve, molto bello, che è utilizzato negli incontri amichevoli e confidenziali, sia per incontrarsi che per accomiatarsi. Poi è entrato anche nella letteratura, anche nelle commedie di Carlo Goldoni, dove appunto c'era l'espressione schiavo vostro, sempre inteso ovviamente come un segno di riguardo e anche qui mai di sottomissione. Poi abbiamo Mandi, che è il corrispondente saluto friulano, che sta ad indicare appunto comandi. Andiamo un po' più avanti ai giorni nostri. Questo saluto è entrato poi nel mondo dello spettacolo, nel mondo anche canoro. Citiamo qualche canzone famosa, Ciao bambina, Ciao amore, ciao amore, ciao. Oppure ancora spettacoli televisivi, ciao ciao. Il motorino, ciao, del 1967. Ma cos'è il saluto? Il saluto è un atto comunicativo che mette in relazione due persone. E ci sono anche altre forme ovviamente di saluto. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Questi saluti poi si correlano a degli orari convenzionali. E allora buongiorno si va dato appunto dal mattino, dalle 5 alle 14. Poi dalle 14 alle 17 si dice buon pomeriggio. E dalle 17 alle 23 buonasera. Dalle 23 alle 5 buonanotte. Poi abbiamo anche altre ovviamente forme di saluto, un po' meno utilizzate. Pensiamo al bacio, pensiamo all'abbraccio, al baciamano, a levarsi il cappello, all'inchino. Levarsi il cappello è stata una forma di saluto di qualche tempo fa, dove appunto gli uomini soprattutto portavano il cappello in segno di appartenenza a un certo rango sociale. E quando ci si levava il cappello era anche un segno di rispetto, di umiltà, soprattutto quando l'uomo entrava nelle chiese. Questo fatto poi ha dato luogo anche dei modi di dire tanto di cappello, cioè per segnalare un evento particolare, straordinario, oppure chapeau detto alla francese. Andiamo poi ad altre forme ancora, come appunto il baciamano, utilizzato tanto in secoli fa, al tempo fa, che viene dalle corti europee soprattutto. Baciamano è l'uomo appunto che bacia la mano alla donna, in segno di gentilezza e di cortesia. Però è anche stato così considerato un segno di sottomissione, nel senso che, se bacio la mano a un capo di Stato, un ambasciatore o un'autorità ecclesiastica, come potrebbe essere il Papa, è un segno appunto quasi di sottomissione. Ritorniamo al nostro saluto, ciao, dicevamo un saluto diffuso, parlato appunto da tanti turisti che vengono anche a Venezia, lo acquisiscono in forma molto veloce, ed è così sinonimo di socialità e di simpatia. E allora anche noi ci lasciamo col saluto, ciao, alla prossima! Si è concluso nelle scorse settimane il trasloco dei carabinieri nella caserma di Ponte delle Alpi, siamo nel Bellunesi. I militari sono tornati nella loro casa che adesso è come nuova. La struttura infatti è stata completamente riqualificata con l'obiettivo di dare all'arma un edificio più confortevole, più sicuro e accogliente. I lavori sono giurati circa due anni e hanno agito su più fronti. L'intera struttura è stata sottoposta a intervento antisismico e a riqualificazione energetica. Chiudiamo come sempre dando un'occhiata al meteo nel fine settimana la pressione in moderato aumento con interruzione del flusso freddo di origine nordatlantica, dopodiché all'inizio della settimana successiva si avvicinerà un'altra moderata circolazione ciclonica d'aria fresca. Per il Veneto ne conseguono dapprima una fase di variabilità e temperature in rialzo con spazi di sereno ma anche nubi e modeste precipitazioni più probabile nelle ore pomeridiane in montagna. Infine ci sarà un aumento di instabilità con delle precipitazioni e un nuovo contenuto calo delle temperature, specialmente in particolare nella giornata di martedì prossimo. È tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione. Come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. Grazie mille! Grazie! Grazie mille! Grazie mille! Autore dei sovrapposti